E' anche il nuovo lanato. Bella l'apertura per Vidal che si accentra. Attenzione Vidal, aspettava a metterla in mezzo. Grand Friuli in uscita, a guarda il pallone. Poteva far meglio qui Vidal. Si, poteva anche sciare la soluzione del tiro diretto. La palla era anche in alto quindi poteva anche cercare il tiro a scendere. Qui vediamo l'uscita di Friuli. Quagliarella Pogba, va dentro anche due ciglie, parte il cross, basso, c'è la deviazione, Frey! Tira a favore di Quagliarella, la palla è andata lì a dritta, qui vediamo proprio il tentativo di Cassiades, non riesce a trovare la palla, però non nulla, e invece la trova Frey. Giro poi a rientrare. Steiner incrocia a Vucinic, sta arrivando Giaccherini, va al tiro, Pogliarella rimane lì e Vucinic! Eccolo qua, il tiro non troppo convinto di Steiner, però il tiro così così. Occhio al caccio di punizione adesso di Jovinko per la mucchiata. Jovinko, Beltrame, palla per lui, Beltrame, vuole la finta, zara tiro, fra il destro secco, Frey! Entra subito bene Beltrame, dribbling secco e tiro alla sinistra di Frey che fa un'ottima parata. Mostrati in un attimo il suo talento, Lich Steiner, cross un po' morbido, facile per Frey qua. Al quarantesimo, resiste il Genoa, rivediamo il numero di Beltrame, finta, s'allarga, tiro secco, normale Frey, sulla traiettoria. Stefano Beltrame, vi dà. L'articross nel mucchio, c'è anche a Molucci, coppa in testa, Frey! Un po' di spalla, più di testa. Sì, è andato su. Jovinko, balcross teso, messo fuori, Giaccherini riprova, Frey! Calcio di rigore proprio in chiusura. E poi il tiro di Giaccherini, Frey concentrato fino all'ultimo. Alla fine il Genoa porta a casa un punto prezioso. Tremiato il lavoro di Ballardini, che ha messo in campo una squadra perfetta nella fase difensiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!